Chiara Fatai quest'anno il comitato organizzatore del premio internazionale Fair Play Menarini ha scelto di dedicare un premio agli infermieri per riconoscere quello che è stato lo straordinario lavoro nei mesi dell'emergenza. Come nasce questa scelta? Chi ha seguito il premio in questi 24 anni sa benissimo che il comitato organizzatore e che la giuria è sempre stata attenta in questi 24 anni a tutto quello che la società civile internazionale aveva di fronte. Il premio Fair Play si occupa di sport perché gli sportivi hanno delle grandi prove da superare ma anche la società civile e soprattutto alcune persone della società civile devono fare dei grandi sforzi per ottenere dei risultati. Quest'anno abbiamo vissuto questa emergenza Covid che ci ha portato delle immagini e delle situazioni veramente raccapriccianti e devo dire che al di là di quelle che sono state le vittime che il Covid ha procurato, quello che ci ha veramente colpito è stato l'impegno del personale medico e in particolare degli infermieri che ha prestato questo servizio per salvare vite umane come se avesse dovuto affrontare una gara sportiva, come se avesse dovuto affrontare un grande impegno di sport e tutti quanti ci siamo sentiti vicini a questo sforzo che gli infermieri hanno dovuto affrontare, a delle privazioni che gli infermieri hanno dovuto affrontare perché molti infermieri hanno dormito in ospedale per giorni e giorni per evitare di infettare i propri familiari, per essere sicuri di poter continuare a fare il lavoro, hanno affrontato dei turni di lavoro veramente massacranti, quindi era impossibile non pensare a dedicare un premio a questo impegno che speriamo sia finito qua, speriamo che l'emergenza Covid piano piano vada a scemare, speriamo che il vaccino presto sia trovato, ma dobbiamo dirgli un grazie con una G maiuscola a tutto tondo perché hanno dimostrato, stanno dimostrando veramente una grande volontà, un grande attaccamento al loro lavoro, un grande attaccamento alla vita dei pazienti e devo dire come se fosse una vocazione, quindi grazie ancora loro per esserci e grazie per esserci anche durante l'edizione del Premio Fair Play 2020.